Vi dico solo una cosa ragazzi, 5 a 0, primi in classifica, primi in classifica, abbiamo fatto 5 pappine al Chievo, che notoriamente è una squadra che difensivamente se la cava e ti rompe i coglioni, invece gli abbiamo fatto 5 pappine. Tripletta di Perisic, giocatore ormai per il quale le parole e gli elogi cominciano a diventare stretti, perché se la cava di brutto e se la cava alla grande, gol il solito di Maurito Icardi che ci mette la strada spianata e poi Skriniar che ormai Skriniar ragazzi, Skriniar è invisibilio, cioè Skriniar non ho più parole veramente, è una roba impressionante, mai mai mi sarei aspettato una roba del genere, ma questo secondo me è il merito tutto di Spalletti ragazzi, calcio, champagne, Spalletti, persino un cervello di gallina come Brodovic, tu lo vedi in questa squadra, sembra un giocatore serio, entra, le cose girano, sembra un giocatore serio. Oggi ci siamo concessi anche la chicca di un centrocampo finalmente con i piedi buoni, un centrocampo bello che sa giocare la palla, che la movimentava bene, dopo anni passati con Gargano, Medel, Kutmanovic, persino Mudingai ci siamo visti al centrocampo, anche Mudingai cazzo ci siamo dovuti a vedere al centrocampo. Oggi Borca Valero messo da centrocampista retrato, ribadisco, è tutta un'altra cosa, perché Borca Valero non ha più il passo veloce di una volta, ma ha la tecnica e ha il cervello, e se gli dai i tempi per la giocata e giocando più indietro può avere questi tempi, lui ti fa girare la squadra, ci sono poche pugnette da dire, la squadra gira. Candreva, altro assist regolare, non mi voglio dilungare oltre perché con tutti gli endorsement che ho fatto a Candreva mi dovrebbe pagare la stecca mensile, cioè sarebbe ora che mi paghi Candreva, perché ti sto facendo un sacco di pubblicità, però vorrei anche ribadire una cosa, se qualcuno degli intenditori del Twitter mi trova un'ala destra con 20 milioni meglio di Candreva, Citofoni, Ausilio, Sabatini, perché sicuramente lo prenderanno a lavorare nell'Inter. Per il resto è arrivato il momento ragazzi, è arrivata la partita dell'anno, personalmente per chi non abita a Milano come me credo che la partita con la Juventus sia la partita dell'anno, quindi bisogna andare lì al Cesum Stadium con orgoglio, con fierezza, senza paura, a giocarcela, a giocarcela, non da presuntuosi, no, con consapevolezza, cazzuti dall'inizio facendogli vedere che ribattiamo colpo su colpo come a Napoli, ok? Belli cazzuti perché non abbiamo mica niente da perdere, lo Scudetto non dobbiamo mica vincere noi quest'anno, quindi andiamo lì per giocarci e per far vedere che siamo tosti, poi non si sa mai nella vita, tutto può succedere, l'abbiamo già deflorato lo Juventus Stadium e possiamo rideflorarlo un'altra volta, anzi siamo stati i primi a dargli la sverginatina lì, ok? Belli cazzuti. Per finire, a tutti quelli che hanno cagato la minchia quest'estate con gli acquisti del Milan, vorrei elencarli, Bonni Bonucci, Mustacchio, Rodrigo, Sbiglia, Kezzi, Sborrini, Caccanoglu, Cacchinici, Andrea Silvia, ci avete fatto due coglioni così quest'estate per queste mezze pippe, alla fine nel calcio non si riduce tutto al calciomercato, bisogna anche metterci le cose importanti, il progetto serio iniziato con Spalletti, il campo, gli allenamenti, perché poi i giocatori quando vedono che c'è un progetto serio, colpi di testa, ne fanno pochi, rigano dritto, ora tosti, cazzuti per sabato, per me c'è solo l'Inter, bella raga!